Gata Digital con la sua agenzia di comunicazione e sviluppo agli eventi presenta un percorso ascendente verso lo sport e i suoi sponsor o per tutte le informazioni aziendali sia di impresa che di prodotto attraverso un cammino di produzioni video completamente customizzate di live streaming siamo in grado di accelerare tempi business e creare interazioni con i propri clienti offrendo transazioni digitali innovative e all'avanguardia grazie alla piena collaborazione con la Dixot RF Produzioni ora c'è Video S Live ad alta definizione un vero e proprio format visivo per ogni ambiente lavorativo e ricreativo ma anche per un vero e proprio rilancio dell'intervista la televendita la competizione sportiva ora è il momento dello streaming sempre più alla pari del modello televisivo e attraverso la riscoperta di luoghi ed aree da noi adibire generiamo con un team in regia e in tempo reale grandi contenuti su diretta e differite social attraverso operatori video giornalisti e presentatori valorizziamo aziende associazioni sponsor e struttura lo sport in ogni ambiente meritevole all'impegno e alla fatica una risposta immediata una risposta in diretta chiamata Video S Live è ora di approcciarsi alla nuova esperienza su cadadigida.it